Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno. Secondo le stime IOM, l'Associazione Italiana Oncologica Medica, questa malattia colpisce una donna su otto. E negli ultimi 30 anni la speranza di vita dopo la diagnosi è cresciuta dal 78% all'88%, percentuale che la rende una delle malattie oncologiche con le più elevate possibilità di guarigione, nonostante siano circa 55.000 ogni anno le donne colpite. Secondo quanto riporta il Ministero della Salute, il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne e un tumore maligno ogni tre è proprio di questo tipo. Nel 2021 sono stati stimati 12.500 decessi. Oggi è possibile individuare microcalcificazioni o piccoli noduli di 3 o 4 mm, grazie a regolari mammografie ed ecografie e prima ancora grazie a una corretta autopalpazione. In questo quadro è evidente l'importanza della prevenzione della diagnosi precoce. In caso di tumori molto piccoli la sopravvivenza raggiunge anche il 97%. Più si attende, più il tumore rischia di espandersi, staccandosi dalla sede di origine e colpendo altri organi, dando origine alle metastasi. Lo screening ministeriale si rivolge soprattutto alle donne tra i 50 e i 69 anni, a cui è consigliata una mammografia ogni due anni. Alcune regioni stanno già sperimentando lo screening anche nella fascia 45-74 anni, suggerendo una periodicità annuale, sensibilizzazione diagnostica in fasi molto precoci e a questo che mirano le campagne di prevenzione ottobrine. Dalle visite gratuite alla raccolta di fondi, quali sono le iniziative organizzate durante il mese della prevenzione? Fondazione Incontra Donna, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con il patrocinio del Ministero della Salute, in partnership con IOM e Farma Industria. Hanno lanciato la campagna Frecciarosa 2022, che prevede durante tutto il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, di sottoporsi a visite e consulenze gratuite con medici specialisti, proprio a bordo di Frecce, Intercity, regionali e nei Freccia Lounge di Roma Termini e Milano Centrale. Inoltre, i volontari della Fondazione Incontra Donna distribuiranno Vade Mecum della Salute e saranno a disposizione per consigli. L'ILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sta portando avanti la campagna Nastro Rosa, che prevede visite senologiche gratuite negli ambulatori LILT, invitando anche le giovanissime a iniziare un percorso di prevenzione. L'ILT rammenta che la prevenzione del tumore al seno andrebbe iniziata intorno ai 20 anni, con controlli annuali da specialisti senologi e con mammografie biennali dopo i 50 anni. Anche AIRC, Associazione Italiana sulla Ricerca del Cancro, ha organizzato una serie di iniziative in occasione del Mese della Prevenzione, scegliendo come simbolo un Nastro Rosa incompleto, a simboleggiare che per vincere questa battaglia serve l'impegno di tutte e di tutti. La spilletta verrà distribuita a fronte di una donazione minima di 2 euro. Sul sito di AIRC sarà inoltre possibile prendere visione di tutte le iniziative di sensibilizzazione, previste per il mese, come corse, camminate, cene di beneficenza ed eventi culturali. Anche Fondazione Veronesi ha lanciato la sua campagna, Pink is Good, con lo scopo di raccogliere e donare fondi per la ricerca sul tumore al seno, attraverso donazioni libere oppure l'acquisto di prodotti come candele profumate o le noci per la ricerca. La Fondazione ha inoltre stretto una serie di partnership con brand che aderiscono alla campagna, sviluppando edizioni speciali di slip e beauty kit, il cui ricavato verrà devoluto alla Fondazione. Il Ministero della Cultura, in collaborazione con l'associazione Come in Italia, ha dato il via alla campagna di sensibilizzazione raccolta fondi, la prevenzione e il nostro capolavoro. Durante tutto il mese di ottobre a chi effettuerà una donazione verrà offerto l'accesso gratuito ai musei statali, aderente all'iniziativa. Queste sono solo alcune delle campagne portate avanti in ambito privato, cittadino, regionale e statale, durante tutto il mese di ottobre, con l'obiettivo di rendere le donne sempre più consapevoli e prevenire piuttosto che curare. Tenite aggiornato sulle notizie più importanti dall'Italia e dal mondo con la nostra app e sul nostro sito. Segui i nostri canali social per tanti contenuti esclusivi.